per halloween abbiamo preparato ancora delle cose carine per decorare questo andrà fatto su carta nera per vedere meglio però su carta bianca prendiamo la grandezza prendiamo il nostro foglio a quattro lo dividiamo a metà e facciamo una bella appesa armonica vediamo appesa armonica il foglio facciamo prima questo passaggio per vedere dove deve essere piegato allora noi ce lo riprendiamo dal nostro che abbiamo già fatto se volete però lo potete disegnare perché è veramente molto semplice permette di ritrovare queste specie di mascherine come devono essere quindi tagliate direttamente sul zitto allora ecco qua il nostro ragno mostruoso la parte unita deve essere questa quella centrale la parte dove verranno uniti i ragnetti sono queste due zampette una e due quelle centrali noi li esaminiamo semplicemente ora prendiamo le nostre farbici e tagliamoci tutto testa cerchiamo di tagliare una forma un pochino mostruosa le zampette centrali non vanno tagliate del tutto questa parte perché vi deve rimanere unito con gli altri ragnetti quando lavorate con le forbici in questo caso stondate il tutto e ora lo apriamo ecco qua veramente molto molto carino buon halloween a tutti ecco qua diciamo